Allora, due parole di intenzione per capire meglio la persona di cui tra poco parleremo. E non ho la cosa per contestualizzarla. Allora, il professor Nesson è uno di quei persone che a metà degli anni 90 circa, in accademia di università, capì che internet non era la tecnologia come è l'ultimo. Nel senso che, come state la radio, la televisione, i satelliti, i tv a cavo e così via, queste persone dicono ma internet e web sono una cosa differente. C'è un urgente bisogno di studiarla in maniera nuova. Che cosa era nuova, ma a questo punto a fine corso penso sia chiaro, che una rete decentralizzata, aperta, che connette le persone tra di loro sia punto a punto, come il telefono, a molti come nel broadcast e in tutte le altre possibili configurazioni, globale, ottimizzata per niente di specifico, come abbiamo appena detto, quindi che può fare in realtà qualsiasi cosa, effettivamente è nuova, non c'è a prima. Quindi i tecno-sceptici che dicono niente di nuovo sotto il sole, spesso non ha inerga parte la ragione, ma spesso non colgono il fatto che internet è oggettivamente, tecnologicamente differente. E la seconda cosa è che internet è basata sul fatto che sono tanti nodi, miliardi di nodi, sono centinaia di milioni di siti web, centinaia di milioni di siti web, fatti, specialmente in quegli anni, il ciberspazio, metà anni 90, era fatto da persone come me e voi, non era fatta da grande aziende, le grande aziende sono arrivate dopo, gli stati non parliamo. Quindi era uno spazio costruito da persone individuali, associazioni, organizzazioni, che in larga parte lo facevano perché ci penevano a farlo, quindi senza la motivazione economica, e insieme costruivano un nuovo ambiente. siti sui pirati, le cibi sedie, forum tra i primi sparati, tutte le perversioni e gli interessi umani erano riflessi online. Questo è anche molto interessante, si poteva prima anche fare quei libri, certo i libri sono spazio cognitivo, ma sono spazio cognitivo non in tempo reale, e sono soltanto libri internet per il testo, poi testo e immagini, poi audio, poi video, in tutti i media, ritorniamo. Qualcuno infatti aveva parlato, ha usato questa metafora, David Post, che tra l'altro sarà a Torino la settimana prossima per il bordo del centro-Nexa, fa la tua metafora a un nuovo mondo, è come l'America per gli europei, un nuovo mondo che viene costruito e che viene capito. I temi sono in corso, la metà anni 90 ha detto che dovremmo studiare, che controlla la rete, la rete può essere controllata, che effettua la sua persona, che effettua la sua politica, cosa capita al copyright? Gli intermediari, come Google, YouTube, eccetera, devono essere responsabili, perché Wikipedia ha avuto successo e invece altre 12, 12 quotidiane online sono fallite? Quali sono le regole, quali sono le leggi di questo nuovo mondo? Queste persone a metà anni 90, in particolare questi due signori, questo 40 signore che vediamo tra pochi minuti, Charles Mason, è un professore di legge dell'Università di Harvard, è diventato famosissimo all'inizio del 1970 perché è stato uno degli avvocati che ha difeso le persone che una volta, nel cosiddetto caso, dei Pentagon Papers, cioè i documenti del Pentagono. Chi è che sa cosa sono i Pentagon Papers? Mai sentiti? Durante la guerra del Vietnam, che ovviamente fu un soggetto di grandissima controversia sociale negli Stati Uniti, a un certo punto un funzionario del Pentagono, uno storico del Pentagono, decise di trasmettere documenti segretissimi a New York Times, che spiega raccontando che la verità ufficiale sul Vietnam era assolutamente in contraddizione con quello che il governo stesso sapeva, cioè il governo americano mentiva sul Vietnam. Quindi New York Times pubblicò, il governo americano fece causa a New York Times per bloccarlo, la Corte Suprema Americana era una famosissima sentenza che fece storia, stabilì che New York Times doveva pubblicare anche se erano protetti verso il diritto di Stato, perché era il supremo interesse del popolo americano, secondo un diritto costituzionale, essere informato di cose di interesse pubblico. Charlie Nelson fu uno degli avvocati che difese le persone coinvolte in questo caso, che fu molto molto durci per dare un'idea, con gente come lui, veniva seguita regularmente dalla CIA, passavano i corridoi sotto Harvard per non farsi seguire. Era un gioco duro. A metà anni 90, il professor ha continuato a fare varie altre cose, a metà anni 90 ha uno studente eccezionale, questo signore qua, il signor Jonathan Zittrain, che è una delle persone più divertenti del pianeta, che era un mago dei computer, tipo a 13-14 anni era il master dei master del bulking board di uno sito online di CompuServe, al punto di quando fu invitato, credo a 14 anni, alla conferenza americana nazionale di tutti questi responsabili di forum online, e nessuno lo conosceva, tutti lo conoscevano soltanto online, chiamavano Jonathan Zittrain e spuntò su una lezione di 14 anni che non riusciva neanche a arrivare al microfono, perché appunto da solo 14 anni la gente pensava fosse avuto, di una brevantezza sconvolgente, che poi è diventato allo school, sono conosciuti e a metà anni 90 questi due signori, tipo padre e figlio, con poi anche l'aiuto di questo signore che avete sentito citare spesso, Lawrence Lessig, che è una specie di figura di culto per chi si occupa di internet, fecero quello che fanno i professori, cioè, lasciamo perdere il discorso che sono avvocati, fecero quello che fanno i professori, cioè fondarlo un centro, che è quello che avete già scritto citato, il Parkman Center for Internet Society, che cominciò a operare letteralmente in una soffitta a casa del professor Nelson nel 1996, fu effettivamente fondato nel 1998, fu fondato alla law school e poi successivamente, in anni recenti, è diventato un centro di university wide, cioè di tutta l'università di Harvard, che coinvolge non soltanto avvocati, ma anche studiosi esperti di altri disciplini. Qual è lo slogan di questo centro, di cui appunto il professor Nelson è il co-fondatore, insieme al Z-Train, e un co-direttore dei molti co-direttori che hanno adesso? Allora, esplorare il ciberspazio, quindi è un nuovo spazio creato dagli esseri umani con CityWeb, esplorarlo, capire come è fatto. Sharing in Study, che è un po' tautologico perché significa condividere i risultati della ricerca, che dovrebbe avanzare, vedere chi fa ricerca lo fa per mestiere, qua sta sottolineando, lo mettiamo disponibili e accessibili online a chiunque, quindi in modalità open access, piuttosto che seppegli in una rivista a pagamento e quindi renderli infatti accessibili agli altri. E un paio di AIDS development, cioè ciberspazio che stiamo studiando ma sta nascendo davanti ai nostri occhi, ok? Non stiamo studiando piramidi egiziani, stiamo studiando qualcosa che sta sviluppandosi davanti ai nostri occhi e quindi è molto probabile che studiandolo, avendo competenze molto elevate, vogliamo in realtà farci qualcosa per studiarlo o per svilupparlo. Ad esempio, il Neobot, il progetto di Simone di Città della Montrino del Centronezza, è un perfetto esempio, quando prima che mi lasse Simone pensavo alla necessità di fare questo progetto, pensavo, ma nessuno l'ha fatto, nessuno lo sta facendo, ce n'è bisogno, facciamolo. Quindi un paio di AIDS, però, significa quello, concretamente sviluppare qualcosa. Qua c'è tutta la lunga spiegazione del centro, della missione del centro, qua alcune cose che hanno fatto al Backman Center in questi anni, poi sul sito, ho trovato chiaramente molto di più, hanno studiato la censura e il filtraggio su internet. Quello Z3 che vi dicevo prima, Jonathan, questo signore qua, qualche anno fa, prima di tutti gli altri, ha detto, so che in Cina filtrano, ma non c'è niente ufficiale delle cose che filtrano, chissà cosa filtrano, cosa vede l'utente cinese? Tra l'altro, il filtraggio cinese non compare una pagina con scritto, hai cercato di vedere un sito censurato dal governo cinese, no, compare una pagina del tipo, connessione interrotta, sito non disponibile, quindi sembra un errore tecnico, ok? Esattamente quando noi scriviamo un indirizzo che non esiste. Allora, era difficile capire cosa censurarsi le cinesi, e lui ha pensato, beh, potrei connettermi via modem dial-up in Cina. Chiaramente la bolletta sulla cara, la paga Harvard, il collego in Cina, e una volta arrivato lì, con uno script, provo ad accendere migliaia di siti, quindi ho compilato prima migliaia di siti, e poi registro la risposta, cioè se riesco ad accedere al sito oppure no. E quindi ha iniziato a gettare un po' di luce su quali siti venivano censurati in Cina, quando in realtà l'unica possibilità di farlo era andare fisicamente in Cina e provarci. In realtà l'idea non è particolarmente originale, però nessuno l'aveva pensato prima, e quindi ha iniziato un grosso progetto di studio della censura e del filtraggio su internet che continua ancora oggi. Poi, per esempio, ci sono molti interessati, lo stanno facendo qui in questi mesi, della politica online in Russia, hanno pubblicato più di uno studio su cosa capita online con i vari blog o i vari siti relativamente alla puntesa rotta politica in Russia, hanno fatto durante le ultime elezioni presidenziali e continuano a farlo, quindi siti pro Putin, siti contro Putin, di che tipologie sono, si riesce a capire chi non finanzia, in che modo sono collegati, eccetera, eccetera. Grosso progetto che hanno sempre il Bernardo intermedia, cioè i giovani, giovanissimi, che nascono, sono nati con internet e con Google, come usano questi mezzi? Un Google lo usano? Come lo usano? In maniera smanenziata o no? Come usano i social media? Come usano Twitter? Come usano il computer? Ok? E quindi andare a via degli aneddoti, chiunque ha dei figli piccoli ha degli aneddoti, ma provare a dicere a produrre qualcosa di più sistematico. Per esempio, quando un bambino di 8 anni va online e trova un sito, magari lo trova rapidamente Google, riesce a capire che strumenti ha per capire se il sito è un sito completamente inaffidabile oppure se è un sito affidabile. Ci sono adulti che non sono capaci a farlo, i bambini stanno sviluppando delle capacità. Su cosa si basano? Sul fatto che è colorato o non è colorato? Che ci sono immagini o non ci immagini? Come fanno a capirlo? Perché chiaramente, vi assicuro, abbiamo due figlie piccole, devono fare una ricerca per scuola, vanno su internet, cercano qualcosa, sanno cosa è Wikipedia adesso e sanno i pro e i contro di Wikipedia, ma se vanno su un altro sito, come fanno? Prendono, fanno copy and call e lo danno alla maestra? Quindi queste sono domande molto importanti e molto d'autorità. Propend policy, io fai vinto che quello che ha scritto di collaborazione, quindi citavo, ovviamente era fatto uno studio per l'equivalente dell'Agicom americano, ok? Un più dignitoso della Federal Communications Commission, dicendo studio comparativo di molti paesi di come funziona l'accesso alla gabanda. Progetto ambiziosissimo, la città d'Araba, il Bergman Center, fare la grande biblioteca pubblica online, gratuita e tutti i libri mai pubblicati, mettendo a fattore comune le biblioteche, le grandi biblioteche delle grandi università americane non solo, eccetera, eccetera, eccetera. Dentro quel gruppo di persone hanno incubato alcuni progetti di grandissimo successo, forse Global Voices non lo conoscete, ve l'ho citato a un certo punto, è un sito che traduce in varie lingue blog affidabili di varie parti del mondo, quindi volete sapere cosa sta succedendo in Siria, è molto più probabile che su Global Voices avrete informazioni aggiornate e tendibili che no su repubblica.it o sulla stampa, con tutto rispetto per la repubblica e per la stampa, hanno un contatto diretto con fonti anche in parti del mondo tipicamente non coperte. Il progetto Credit Commons, questo concepito è lanciato da questo gruppo di persone, e poi ce ne sono altri, stop, Lendware, Eodict e altri ancora, questo è uno snapshot del sito, molto aggiornato, molto arricchito, registro tutto, metto tutto quanto online, dopo c'è una quantità di materiale audio-video, chiaramente l'inglese, sterminata. Noi non ho cercato di copiarli col centro Next su internet di società, ma direi che è arrivato il momento di connetterci, a passo che siamo online, a passo che siamo online. Si, aspettiamo che arrivi il professor Nesso, che salga alla conferenza, lo teniamo pure con questo. Andiamo in passaggio. 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 Andiamo. Andiamo. Andiamo in passaggio. Andiamo. 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 Andiamo in passaggio. Andiamo. Andiamo in passaggio. Andiamo. Andiamo in passaggio. Andiamo. 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 Andiamo in passaggio. Andiamo. Andiamo in passaggio. 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 è il connection between the notion of the library, what is a library, how does a library work, and the internet. In effect, the perception is that the internet has become a library and to the extent that there is a free internet, that is the equivalent of public parks, national parks, international parks, and that way in which those need to be built is a combination, combines the skills of engineering and the skills of lawyers. Cyberspace is built of law and engineering. And in particular, the biggest threat to public space and the internet comes from law, comes from litigation, comes from fear of being sued. The idea that if you use some bit or its in space, that you may be vulnerable because you didn't get permission that you are in the United States. And you may wind up being sued. It's a huge problem now in the United States. And I think it's growing all throughout the world. And so the biggest entrance, Berkman Center is now a partner for something called Digital Public Library Library of Medicine. This is an art gather public libraries and university libraries together in an institutional structure that shares the commonwealth. It's an enterprise that has reached out and and it's partnering with European, which is the European, which we hope to extend very widely all over the globe. And it's the enterprise that we've done most interest in having Juan Carlos focus extension as we go forward. So with that, let me ask, a goose European as a library relating to libraries in the United States and together relating to the issues of public life. May I ask that question? Can you please repeat the question? Yes, I'm here. Can you hear me? Oh, I'm sorry. I'm sorry. I need to put on my... Can you please repeat the question? Say again. This is what you were saying. Can you repeat the question, please? You were asking a question, right? Yes, yes. I'm I'm wanting you to offer your thought on how Europeana as a European library system can relate to our digital public library of America with related respective copyright. Well, as far as I can tell because I've not been following Europeana closely. Europeana is a bit less ambitious in the sense that it's just trying to be a gateway, a portal towards digital objects digitized by individual libraries throughout Europe. So in this sense, as far as I can tell, DPLA is more ambitious because they try to actually offer the digital objects. But maybe you can correct me because DPLA has not been completely clear to me. Well, you're absolutely right. In fact, the issue that's effectively on the table here now as DPLA goes forward, will it be a repository? Itself, or will it really just provide links? But part of it that you know I'm most concerned with about parlance is the threat of liberation. The idea that if something is in a library, it seems to be available for use, but it doesn't come with any guarantees. And the question that I'm that I'm concerned with myself is whether there is a role for lawyers who have done so much work with creative commons and other facets of hope in actually creating a registry that would be legally defendable. Yes. As you know, I share your view. The feedback I got in Europe is that in Europe we don't have punitive damages. So actually, the cost of infringing copyright, the danger of infringing copyright is not as extreme as in the US. And therefore, they understand what we're talking about, what we're proposing, but the they don't feel is as necessary or as urgent as instead we feel on the other side of the ocean in the US. of course. All right. Now, may I ask a question of your class? How many of you play poker? One thing would you call poker? I would say about one third or maybe more, maybe one half. Let me see the hands of those who do not know how to play poker. May I ask whether your class would like to learn to play poker? Well, I would say the other central element of the Burton Center is the idea that the building of the internet is like a poker game. The world is rhetorical. It's about arguments. And the way in which arguments are put forward are very much like the way poker is played. And if I had the opportunity, I would love to teach you how to play the game. It is the American game. And it's an excellent game for purposes of learning how to deal with risk and aggression and bullying and adversaries. It's an adversary game. I think I can facilitate a rendezvous, a meeting between you and those in the class interested. Well, I can't do it right now because I'm in the midst of a conference right here. But I would, I'd love to have the opportunity to do this anyway. But are we on the last class? This is your last class? Actually, in about 45 minutes, the course is over. Oh dear. Well, Juan Carlos, I'm going to leave the last part of your class to you so that I can get back to my conference. But I do want to say that I would love to have the opportunity to teach you poker sometime. Because to me, it's largely teaching about how the internet works. Becoming a player of the game yourselves. Very nice to be with you. I'll make sure that you get connected with the class. And thank you for finding the time. And thank you for sharing your vision. Excellent. Thank you very much, my friends. Bye-bye. Bye-bye. Thank you. Bye-bye. 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 Allora, qualche commento su, anche un breve sintesi per chi non l'avesse seguito completamente l'inglese? Il tema della sfida è che chiaramente gli piace il poker e lo usa come metafora di... Secondo lui il poker è un gioco profondamente educativo, cioè lui è profondamente convinto che imparare a giocare a poker in maniera assolutamente avanzata come fa lui è di grandissimo insegnamento non soltanto per gli avvocati, lui insegnava lo school, e secondo lui molto di quello che fanno gli avvocati è giocare a poker, cioè far finta di, insomma, bleffare, giocare con l'aspettativa della jazz star e così via, ma in generale ritiene che sia di grandissima utilità pedagogica per chiunque l'università per i bambini di 5 anni. Sicuramente secondo me è fondata questa sua passione, anche se io stesso so giocare ma non sono sicuramente un giocatore, e quindi se ho offerto chi fosse interessato, non vi metto in contatto con lui, lui è bravissimo in insegnamento di giocare a poker perché se lo sapete giocare parte da una versione estremamente semplificata fino ad arrivare alla versione completa del Texas Holden e quindi se qualcuno è interessato mi scriva e vi metto in contatto e fate una connessione Skype e vi insegno a giocare. A parte questo il collegamento con internet all'inizio lui parlava del fatto che quello che gli preoccupava, lo preoccupa ancora adesso, è il fatto che vado online, online in realtà quando voi navigate su internet trovate bit, trovate bit che poi sono codificati come testo, come immagini, come suoni, come video e così via, e la domanda fondamentale è cercare di capire quali bit posso usare per fare che cose e quali non. Messo in questi termini tecnologici è un discorso di interdottore ma tradotto in digitale.